Buonasera, tanti spunti utili ma ancora a strada da percorrere. Siamo all'inizio. Su quali aspetti bisogna lavorare per ripartire? Bisogna lavorare sugli aspetti di questa partita, in quella mezz'ora di blackout, dove abbiamo concesso tre gol al Milan, troppo facili. Noi abbiamo fatto due ottimi gol e poi abbiamo creato tantissime altre situazioni, però per noi è stato più difficile, quindi questi momenti che abbiamo dobbiamo cercare di analizzare, di capire tutti insieme perché dall'1-1 fino al 3-1 abbiamo concesso quella mezz'ora al Milan che ci è stata fatale per la partita. L'Inter ha messo grande carattere in campo, ha provato fino alla fine, rimanendo alta, portando tanti uomini in attacco, sapevamo, non era semplice oggi. Quali sono stati, secondo lei, i momenti chiavi della gara? I momenti chiavi dovevamo essere più bravi a indirizzarli verso di noi, invece in partite di questo genere contro avversario di valore, come può essere il Milan, come era la Stata o a Roma o a Lazio, abbiamo avuto un passaggio troppo lungo a vuoto che non ci possiamo permettere in partite di questa importanza. Ultimissima gara dispendiosa, ma adesso bisogna recuperare subito perché già mercoledì scende in campo l'Inter per affrontare il Bayern di Monaco. Assolutamente sì, sarà una partita difficilissima che cercheremo di preparare nel migliore dei modi perché sappiamo che ci aspetta una delle squadre più forti d'Europa, però siamo l'Inter e ce la giocheremo. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi.